Weekend di riposo per l'Energy Time Spike Devils Campobasso. Dopo dieci giorni di preparazione, mister Mariano Maniscalco ha concesso ai suoi ragazzi un piccolo stop. Da lunedì si ritornerà al Palavazzieri per proseguire gli allenamenti. In agenda due allenamenti congiunti contro il Paieta. La formazione abruzzese di Serie B sabato prossimo sarà in Molise, mentre il 9 ottobre l'impegno in Abruzzo. A proposito del gruppo, dovrà recuperare un po' di lavoro perso Domenico Maiorana, bloccato da un problema fisico che lo ha costretto ai box. Da giovedì si è aggregato alla squadra. La società di patron Marco Pulitano ha allestito un organico competitivo, riconferme, giovani e uomini di esperienza che hanno calcato ben altre categorie, tra questi l'alzatore Leo Parisi. In bacheca una promozione in Serie A1, 2 in A2 e la vittoria della Coppa Italia. Sono stato accolto molto bene perché io non ero mai stato a Campobasso né a giocarci che a visitarla. Mi trovo bene, è una città molto accogliente e mi trovo bene con il resto della squadra perché siamo un gruppo, diciamo c'è un bel mix tra veterani e giovani, quindi è il giusto compromesso. Ci sono tre o quattro, insomma non anziani, però esperti li chiamo io e appunto composta anche dall'altra parte insomma dei più giovani e questo può sicuramente essere un punto in più perché le giovani leve insomma staranno dietro a noi un po' più grandi e quindi... Mettere a servizio della squadra sicuramente la tua esperienza che non parla solo di Serie B. No, ho fatto anche qualche esperienza insomma in Serie A e ovviamente vengo da due anni che sono stato a Palmin a 3 e adesso appunto ho sposato questo progetto e sono contento di onorare insomma indossare questa maglia. Che campionato di Serie B ti aspetti inteso anche il ritorno in campo dopo un anno molto particolare? Eh sì, è stato un anno particolare un po' per appunto per quello che è successo per questa pandemia, quindi speriamo di far innanzitutto far tornare le persone, il pubblico a seguirci e a sostenerci perché sarà sicuramente un punto in più a favore nostro. Speriamo insomma che cambi proprio totalmente l'andata.